Eeeeee... Ciao a tutti i fanciulli, bentornati in questo nuovissimo video Io sono Gabbo Oggi siamo su un gioco molto particolare che sta andando un sacco di moda Io sono scarso come pochi Questo gioco è Fortnite Dunque l'ho scaricato gratis Vi lascio il link in descrizione per scaricare il launcher con il gioco all'interno C'è anche Unreal Tournament, mi sembra che andrò a fare più avanti E sono scarsissimo io nei giochi dove si fa peu, peu, peu Vi lascio il video Io è la prima volta che faccio questo gioco, io non ne so niente Non voglio sapere ma voglio giocare Oggi siamo su un gioco che praticamente è fatto da gnocca Bene, siamo su Fortnite Dunque, salva il mondo E la campagna PVE Bello L'entrata del 2018 Bene Battaglia, battaglia reale Con 100 giocatori Quanto alto però questo audio Il mio eroe Pronto Sono prontissimo Allora, io non ho idea Ma sono una gnocca già Quindi va bene Io salve, non ho idea Salve Io non so giocare a questo gioco Come si sprinta? Ah, così con Shift Sprinta, sprinta secco Vai Sprinta, sprinta Ah, sono nella lobby Ok, non l'ho capito Ok Non posso spaccare le auto Ero nella lobby Adesso sì Madonna che è figo Oddio, oddio Aspettatemi Aiuto, 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 aiuto Oddio, hanno già seccato due della nostra squadra Veramente? Sono forte! Sono fortissimo! No! E vabbè, e vabbè, dai Mi fa capire che io non so giocare assolutamente Madonna, è nell'albero Vai, vai tranquillo Zio, cecca Ok, quello è uno dei miei Io colpisco Sono forte! Sì, ma con la nebbia Cioè Zio, io non ho armi Io ho solamente il mio piccone Urca Pietra Vai, eccolo là Eccolo là Oh wow Eh, can't keep la merda Vai, la lobby Le cose Noi di già c'è uno là Mamma mia Che ansia Eh, sono armato E sono pericoloso, eh C'è proprio a sparare Sono sca Oddio L'ho sentito Io voglio un sacco di Di cose Che fanno male Io costruisco muri Sono Trump Costruisco muri Quindi devo andare in là Madonna di quella Madonna Quella è l'area di safe Quindi devo andare lì Oddio, là ce n'è uno Ti ho preso Giuro che ti ho preso, eh Volevi? Oddio 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 Ma dai Ma dai Ma dai C'è già un altro Va bene Madonna Eh, di già Eh, la pepe Eh, vabbè Dai Uno è già lì Là non sembra esserci nessuno Allora posso di scudo Non ho paura di niente adesso Non ho mai paura Uno è là Ma quella non la prenderò Zitto, 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 zitto Zitto, zitto, che non mi ha visto Madonna Vabbè, che è il show della vita C'è uno che mi spara Beh, volete farmi sniperare Questo bug? Questo bug è incredibile Urca Oddio Oddio Dovrai venimi a prendere Perché lo so Dovrai venimi a prendere Ci è andato vicinissimo Ci è andato Dai Ma come Va bene Dunque ragazzi Questo era Fortnite Sono scarsissimo Però mi piace un sacco E se volete fare delle cop Volete fare qualcosa Scrivetemi Ditemelo nei commenti qua sotto Facciamo delle cop Carriatemi Che io faccio Il pew pew Quando serve Se non mi siete In questo canale Iscrivetevi Spolliciate Commentate Condividete Seguitemi sui social Io vi ringrazio Altissima per la visione Ed un prossimo video Ciao panciulli 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 Ciao panciulli